A me aveva fatto effetto anche la comunicazione quando si scopre ad esempio la videochiamata e quindi la mamma riesce a chiamare il figlio che magari lavora con Tano e quella è una cosa che per noi oramai la usiamo tutti i giorni però quando abbiamo mostrato a quelle due tre signore io sono stata contentissima poi perché era bello vedere la loro faccia soddisfatta.